Ciao a tutti da Filippo Giannini, Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la videoanalisi sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è martedì 13 luglio 2021, focus di oggi sul DAX. Prima di iniziare, al solito, andiamo a vedere quali sono i prossimi appuntamenti gratuiti sul nostro sito www.tradingfacile.eu dove trovate tutta la reportistica inerente ai nostri trading system. Vi segnalo il prossimo webinar gratuito, webinar che avrà luogo lunedì prossimo, 19 luglio, alle ore 18. Iscrizioni già aperte, trovate il link qui, cliccando sugli eventi della settimana sul nostro blog. Mi raccomando, al solito, iscrivetevi per tempo in maniera tale da ricevere poi il reminder sulla vostra casella di posta elettronica. Non dimenticate inoltre di iscrivervi ai nostri canali social, canali YouTube, Facebook e Telegram in maniera tale da ricevere gli avvisi sulla pubblicazione di nuovi contenuti gratuiti e rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre iniziative. Bene, diamo la parola ai grafici, oggi parleremo del DAX, DAX che ha offerto negli ultimi due giorni importanti segnali dal punto di vista direzionale, perché? Perché se da un lato la barra ribassista dell'8 luglio scorso sembrava essere presagio di nuovi ribassi anche se in quell'occasione abbiamo segnalato come comunque i supporti appunto di breve stessero per il momento tenendo a galla il mercato e quindi non c'era stato un break di livelli significativi e da qui poi abbiamo visto nel corso delle ultime due sessioni un'importante ripresa del mercato e vedete qui vi ho segnalato questa successione di minimi e massimi appunto perché? Perché il mercato nella giornata di ieri è andato di fatto a completare un modello molto importante dal mio punto di vista, un modello di stampo rialzista modello a doppio minimo decrescente, quindi minimo più basso, punto 2 di reazione posizionato tra l'altro appunto sui livelli di apertura di questa barra benchmark ribassista che teneva sotto scacco il mercato perlomeno fino alla giornata di ieri, poi il mercato che appunto con questa barra ribassista dell'8 luglio ha fatto comunque sia un minimo più basso e da qui poi abbiamo assistito ieri al completamento del modello con questa chiusura superiore al punto 2 quindi il mercato che da un lato appunto ha completato un modello appunto di inversione rialzista dall'altro lato ha di fatto anche annullato questa precedente barra benchmark ribassista recuperando appunto in close questi che erano i livelli peraltro già segnalati quota 15.730 punti, quindi importante segnale direzionale appunto lato long in questo momento e qui vedete che ora si aprono interessanti prospettive perché quando il mercato ci offre appunto uno spunto direzionale come quello osservato nelle ultime due sessioni ci dà anche appunto modo di andare a lavorare appunto all'interno di quest'area appunto cercando di sfruttare quelli che sono tipicamente i pullback quindi i ritracciamenti sui livelli appunto maggiormente significativi. Questo che cosa significa? Significa che da qui alle prossime sessioni ci sarà spazio per andare a operare lato long sfruttando magari ecco dei ritracciamenti e quindi quelle che sono poi le reazioni sui supporti nell'ottica di appunto sfruttare e cercare di posizionarsi long ad un prezzo di carico migliore rispetto a quello che potrebbe essere un'operatività appunto sul breakout di nuovi massimi tenendo conto anche che siamo sui massimi storici e quindi ci sta anche che il DAX potrebbe in un qualche modo andare a stornare qualcosina però insomma ecco tenendo conto che il target appunto offerto da questo modello è un target che appunto si posiziona intorno a quota 16.180-16.200 punti lo vedete qui qui ci siamo aiutati anche con i livelli di fibonacci detto questo però secondo me conviene maggiormente appunto monitorare le correzioni anche in ottica intraday perché ad esempio il primo livello utile è quota intorno a quota 15.640-15.630 punti perché qui se andiamo a zoomare appunto su un grafico a 5 minuti vedete che il mercato ha fatto su base intraday una ottima base di accumulo quindi mercato che sostanzialmente da qui poi ha gettato le basi per fare appunto i massimi di ieri e quindi è chiaro che se il mercato dovesse tornare a testare questi livelli ci si aspetta appunto che questi livelli possano andare ad essere difesi e quindi come detto primo livello utile 15.630 punti ma anche in caso di correzione più marcata abbiamo 15.570 e 15.500 punti 5.510 occhio magari ecco più in basso ultimo punto che può essere sfruttato è quota 15.460 non oltre perché poi insomma ecco il rischio è quello di se da un lato appunto avere magari delle opportunità che si possono presentare come acquisti a basso rischio però a quel punto il rischio potrebbe anche essere quello di insomma vedere un mercato che vada a ritracciare fino al di sotto di questi minimi quindi il punto 3 e quindi magari ecco il rischio è andare anche quello di prendersi degli stop non è lo scenario come detto che ci aspettiamo perché anzi insomma in caso di correzione ci aspettiamo che il mercato possa andare appunto a ripartire lato long l'obiettivo come detto è quota 16.180 punti anche se va detto che in prima battuta un obiettivo ragionevole potrebbe anche essere rappresentato già dal test di quota 16.000 punti perché qui comunque sia abbiamo una resistenza livello di resistenza dinamico e quindi ci atteniamo delle prese di beneficio qualora il mercato vada a ritestare questo questo livello come detto tutto in questo momento cambierebbe soltanto a fronte come detto di movimento marcato al di sotto del punto 3 quindi al di sotto di una mossa sotto quota 15.280 qui siamo peraltro anche vicino al minimo del punto 1 quindi 15.260 punti bene andiamo a commentare alcune operazioni svolte nella giornata di ieri e dall'altro ieri dai nostri trading system qui partiamo appunto dalla giornata di venerdì scorso prima operazione aperta a quota 15.517 e quindi proprio qui sfruttando appunto questo pattern a doppio minimo questo modello lo vedete qui a W con il mercato appunto che già in pre session va a completare questo modello e quindi a offrire un segnale direzionale su base intraday qui siamo entrati appunto sul recupero di quota 15.517 in questo caso l'operazione è stata chiusa appunto al 17.35 quindi alla chiusura dell'indice sostanzialmente del cash e qui appunto siamo andati a realizzare un gain di circa 160 punti operazione seguente analoga sempre long qui siamo entrati un pochino più in alto quota 15.550 punti qui siamo entrati appunto in break di volatilità in questo caso l'operazione è stata liquidata alle ore 21.50 quindi alla chiusura di fatto del future e qui insomma all'incirca sono 110 punti nella giornata di ieri eccola qua siamo invece entrati a mercato sempre long 15.743 punti quindi eccoci qua quindi qui il sostanzialmente il pavimento del quale vi parlavo prima mercato che ha fatto questo doppio minimo per poi appunto ripartire long e quindi in questo caso appunto siamo passati da 15.740 a 15.780 quindi circa 40 punti di gain bene anche per oggi è tutto io vi ricordo che tutta l'operatività del nostro trading system la trovate su www.tradingfacile.eu per qualsiasi informazione ci potete scrivere a infochiocciolatradingfacile.net anche per oggi è tutto un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti